che schifo regà che schifo 5 a 1 stiamo a perdere 90 e mancano poco perché tanto ha dato tre minuti di recupero e che cazzo tanto c'è io io mi incazzo perché dove mi incazzo la sapete con chi mi incazzo uno con quella merdaccia di allegri perché una merdaccia l'allenatore ho sempre detto la merdaccia e l'altra merdaccia la merdaccia sono quelli che vanno dire a st allenatore del merda lì io mi incazzo con queste merdacce che vanno dire allegri perché avete visto ottava vittoria consecutiva contro sto cazzo hai vinto l'ottava vittoria consecutiva testa di cazzo come trovato la squadra un po più messa meglio un capo che gioca a carccio già fatto un culo come nord e notte testa di cazzo ancora clacca ma testa merda quello mi fa un cazzore mi fa di incazzare guarda mi fa di incazzare cioè veramente che vergogna dal 1990 che non perdiamo 5 a 1 con napoli 33 anni fa abbiamo preso maratona c'era maratona contro noi maratona ma maratona c'era che vergogna rega che vergogna che schifo la difesa più forte del campionato abbiamo preso 7 gol in tutte ma ne abbiamo presi 5 ne abbiamo presi 5 ne abbiamo presi una 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 figura di merda così colossale io non me la ricordo fate schifo fate schifo ma io non mai che ma me la piglio con l'allenatore che era merda cioè questo proprio non capisce un cazzo c'è i giocatori sempre messi a cazzo decare non conosce schede cambia moduli mentre sta in partita 352 442 432 210 919 all'inizio siamo partiti con 9 a 1 siamo partiti ma possiamo ammazzare cioè noi ci affidiamo sempre al caso al culo ho detto quelle vittorie che abbiamo fatto 8 vittorie conseguute l'abbiamo vinte col culo l'abbiamo vinte cristo santo cioè veramente che vergogna rega che vergogna mamma mia ma io guarda io non immaginavo che potevamo perdere ma non così 5 a 1 c'è col pallotto lieri questi proprio col pallotto lieri ma dove cazzo stiamo che schifo che questo è consegnato lo scudetto gli hanno consegnato lo scudetto proprio ecco gli hanno consegnato lo scudetto c'è veramente che figuraccia di merda guarda veramente che figura di merda io non mi capacito guarda rega io non mi capacito ma mamma mia guarda che cioè ci hanno ballata la samba questi giocano a pallone ma il napoli gioca a pallone noi sappiamo manco come se gioca a pallone non ci affidiamo al culo al caso al singolo non ci abbiamo uno schema di gioco non ci abbiamo una tattica di gioco non ci abbiamo un cazzo non ci abbiamo porca troia non ci abbiamo un cazzo è finita è finita è finita l'agonia che schifo che vergogna ma dovresti dimettere in questo istante pezzo di merda dovresti dimettere dopo sta figura di merda il grande difensore la juve è forte in difesa avete visto asciuga è bravo è bravo bravo io l'ho detto come incontravo una squadra che gioca un po' a pallone ci inchiappetta cioè noi vinciamo con le squadre a culo con squadrette di merda abbiamo vinto otto vittorie conseguenze con squadre di merda abbiamo vinto che deviamo quelle potrebbero essere pure sconfitte perché abbiamo vinto a culo no già la puttana io l'alligretti vi spaccherei la faccia perché i primi colpevoli siete voi che è nato di una sta merdaccia che ci allena voi e quello è il problema voi siete il problema di sta cazzo di juve maledetti siete voi il problema adesso uscite fuori uscite fuori e cominciate a dire è allegra è qui la vita allegra è un culo il cortomuso ficcatevelo un culo il cortomuso testa di cazzo si gioca a pallone a calcio si gioca a pallone no facendo queste grandi figure di merda teste di cazzo vaffanculo che è riuscita a cura e lo vaffanculo ci sono i due